Hey ragazzi, ciao a tutti le nicchè, bentornati qua su Ark Survival Evolved Ragazzi stiamo un attimo andando in giro con la mia viverna Riflettendo, oggi che famo, oggi che famo Quando qui in zona raga ho visto tantissime tigri dai, i denti a sciabola E' pieno zeppo e so pure buone tigri Ci stanno delle belle tigri ragazzi Allora, ne ho vista, ne ho visto un bel po' E due sono molto 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 buone Una, oh c'è anche, cavolo c'è il tirannosauro, vedi? Oh caspita, ma dove sono usciti tutti questi tirannosauri? Accidenti, ok raga, ecco vedi cosa succede? Succede che se non me sbrigo le mie, mie, per ora mie non sono Ecco, pigliamo quella tigre prima che me la fanno fuori Prima, prima che, prima che qualche tirannosauro mi fa fuori almeno Sta bella tigre, cavolo Non c'erano tutti questi tirannosauri, c'erano solo le tigri Ho detto, mo mi addomestico quelle buone E come è finita che me le stavano per far fuori Sì, guarda là Completamente, ah, completamente fuori Ok, ce l'ho fatta finalmente Allora, almeno una tigre ragazzo l'ho in gabbia E speriamo che non, speriamo che non può uscire Sapete che non lo so? Vediamo se, vediamo se sa uscire da là Mi scusi? No, l'importante è che lei non esce da là, eh Ok Sai com'è raga, ha paura c'è Allora, se non sbaglio tutto è necessario qua, dai Ok Boh Speriamo che non scendono i tirannosauri da là sopra Cominciamo quindi a domesticare questo animale raga E se l'altro, ne ho visto un altro Ho visto un'altra tigre A livello 140 Se non è schiattata Vorrei prenderla Ho mi hai fatto spaventare, mannaggia teo vi raptor Pensavo che era andata giù invece Oh cavolo Eh, 40 di danno, che cavolo è, ah Vai che tanto ti butto giù Vai eh Forza, 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 fai così, fai così Oh ma se non te levi te spacco, eh Sto vi raptor mi deve far pigliare i colpi a me Vai eh È andato Beh, carne pregiata, carne, carne, caspita Vabbè ma tanto è inutile la carne pregiata Qui con, con l'addomesticamento veloce Non è che, anzi a proposito Sai che te dico? Ecco, facciamo una bella cosa Andiamo a far fuori quei tirannosauri, va Così mi piglio la carne pregiata E in più magari mi lasciano in vita qualche tigre, no? Vediamo un po' Soprattutto quello che era qua sotto Devo far fuori Ma secondo me ormai quella tigre che avevo visto Probabilmente ha fatto una brutta fine I T-Rex si sono buttati qua Ah beh Vabbè lasciamo perdere, raga I T-Rex si sono messi in un punto Beh non dico bloccato Ma in un punto che a me non conviene andare Aspetta, forse posso fare una bella cosa invece Ma vediamo un po' se da qua Aspetta, eh Cento e cento più o meno Vai che me frega Famo lì fuori, va Tanto sembra esperienza, eh È comunque Esperienza Ah sì, tanto te mordo io Qual è il problema? Annaggia Alla curvatura terrestre qua Andiamo Crepate Forza che c'è schiattate Forza Ok Meno uno Che meno due E mi hanno pure dato un po' di carne cruda pregiata Dai Ho un quell'altro T-Rex Non so che fine ha fatto Vediamo un po' raga Vediamo un po' la situazione con questa tigre Che se non sbaglio a casa c'ho già una sella Quindi Quindi tanto di cappello Dammi un po' sta carne Ecco smette sempre di piovere quando sto per finire l'addomesticamento Ormai lo sappiamo Oh non di svegliare Non riesco manca ad entrare Ok, perfetto Vai di carne pregiata Così st'animale si sveglia prima Ok Andiamo a vedere se trovo Vediamo se trovo le altre Avevo visto altre tigri Un bel po' addirittura Cavolo Era pieno Era pieno 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 di tigri Ma che fine hanno fatto? Non so sa E o le ha fatte fuori il tirannosauro Ce n'era uno qui di tirannosauro Ma non so che fine ha fatto Ma lo cerchiamo raga Perché comunque è un pericolo Si trova comunque vicino a casa mia E E la cosa non mi piace Anche se voglio dire Vabbè a casa mia Ormai ci stanno animali Tutt'altro che indifesi no? Ah eccolo là Eccolo là Guarda dove sta Uè cipolletto E che a livello è? Tanto è quasi schiattato Oh che cacchio vuoi? Che t'ho fatto? Io spacca tutti Mi spacco E che? Beh ce ne possiamo andare Eh però Mi sa tanto raga Che quelle due tigri Che ho visto Sono morte Sicuro eh Erano qui C'erano due tigri Belle Uno di livello altissimo E vabbè Eccola qua Bella Bella mia Bellissimo animale Eccola qua Eccola qua Trovata Vedenti a sciabola Anche se ovviamente Non è un problema Farla Ormai non ho più problemi A costruire le cose Quindi Non c'è quel problema Ma però Se ce l'ho È meglio No Quindi mettiamo La sella Ah il cibo Il cibo Giusto Vabbè che tra poco Di cibo Ne vado a fare Un botto Con st'animale Qua Vai di cibo Vai di danno Dai Ok ragazzi Quindi che famo Mi porto solo La tigre Ma si mi conviene Ah un altro commento Ora che ci penso Ma avete detto Nicco ma perché Non potenzi il tuo Giganto Gigantosauro Con il Jutiranno Ragazzi Non è un potenziamento Definitivo Il Questo Jutiranno Potenzia Gli animali Solo per un breve periodo Quindi Non è una cosa fissa Oh ma è diventato Bianco E' sempre stato bianco Sai che non me ricordo Ma era pure prima bianco Boh Vabbè Ah aspetta No no aspetta Lasciamo stare Volevo attaccare Quella tartaruga Ma poi tutti gli animali Qua miei Cominciano Cominciano a D'innervosirsi Allora ci facciamo Un bel giretto da soli Con la tigre Dai Si ci sta La grande Togliamo qua Il gamma Oh mamma mia Ah vediamo un po Che cosa sa fare Clic destro Nulla Clic sinistro Attacco E L'attacco speciale Non c'è sta Vabbè Ok Noto che c'è solo L'attacco primario Chiudiamo Mamma mia Quanto è bello Ragazzo Qua si voglia Di riguardarmi Jurassic Park Veramente Allora Cominciamo a fare Festa Che Con o 90 è buono di danno però è comunque 90 è un buon danno 90 è un buon danno per quest'animale qua non è male non è affatto male 90 ora ovviamente la tartaruga insomma insomma una grande resistenza come vabbè come danni non fan cavolo però la tartaruga dai sì la famo fuori ma devo dire che ragà devo dire che la tigre è un gran bella animale se è riuscito a prenderlo all'inizio della partita veramente avete un gran bella animale mi avete detto ricche ma come fai a a mostrare il l'attacco come famo ma cos'è sta roba per terra comunque scusate non capisco questa specie di specie di sangue aveva detto come fai a mostrare il danno e il danno ragazzi è una cosa che ho abilitato nel server non è una cosa che ho abilitato nel gioco poi se si può fare in single player non lo so non ci ho mai guardato a piedi o cavolo eccolo lì stanno al tratti tigre mi puoi spostar davanti per favore stavo guardando livello 95 ma lo famo fuori raga sinceramente già bene o male magari ne trovo un altro di livello 130 femmina il mio che maschio femmina e mi è femmina pure famolo fuori va inutile e mi posso intromettere chiedo scusa anche famo giro giro tondo quando è bello il mondo a gira è schiattato pure lui mi fa piacere dai che questa da carne cruda pregiata che ci abbiamo acqua ricetta scili focoso probabilmente ce l'ho già però nel dubbio la prendo mamma mia raga a mania come va scusa ho sbagliato tasto ommagine mi attaccava per un pugno aspetta non mi uccidere ti prego mamma mia no no scusa 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 andiamo 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 che cacchio ma quante tigri ci stanno mo livello 15 pure più schifo e scusi quella è una mia preda chiedo scusa quando so più veloce di questo tigre stancato è zitto e ma quello ci penso io è roba mia questa questa zona mia e la scusa è che era dovuto è finito è nepple lezio pazzo stesso veloci sti para sauri famo fuori i parasauri ecco la bellezio e bravo rimane incastrato che così mi semplifichi la vita a rischiare la pelle oddiammi a rischiare la pelle per mangiarsi un uovo cacchio sosca questi sono i cosi questi sono ragazzi le formiche 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 soldato tipo questo qui che cacchio e aspetta 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 questo diamine attenzione a questo qui che è pericoloso no no perché ce l'hanno sempre con me o tutti gli animali che ci stanno in zona con chissà pigliano connicche ok mo se mette male perché gli avvoltoi sono dei disgraziati si mangiano quello che trovano per terra di ucciso che alle volte mi attaccano a me ok è andato bene però questi fa queste cose si fanno un bel po di chitina si fa questo è un diplodoco il livello 140 quanto è bello cavolo st animale qui raga è bello sapete perché perché c'è una sella se non sbaglio a una sella che può trasportare un mucchio di persone ed è pure un bel animale veloce se non ricordo male a forse che mi sbaglio però se non ricordo male così è veloce trasporta tante persone è un bel animale però ormai raga acquisto gameplay è già da un po che registro cavolo un tirannosauro oh stazione è carina e ci sono un bel po di roba no comunque ovviamente noi contro il tirannosauro siamo assolutamente svantaggiati eh si si avvicina a me che me frega io sono più veloce di lui o è tiranno e me frega ammette lui o tirannosauro gli diciamo è come va tiranno sei un tiranno ma visto mi insegue boh è strano veramente mister mister di che il tirannosauro non attacca la tigre boh è un animale così piccolo scusa perché cavolo non lo attacca non so proprio do gas wow salta vero questo salta oi questo è un bello oh ti fai male no no non si è fatto male ma è veloci il raptor mi attaccherà si che mi attacca cacchio vuoi oh non ti vergogni guarda lì come è schiattato male devo dire è schiattato decisamente male livello 50 ed è schiattato male pure lui oh la tigre bell'animale nega retromarcia meno male che funziona vediamo un po che ci abbiamo qua vai 400 di danno raga ho potenziato st animale veramente niente male ma fa un bel po di danni dovrei aumentare l'attacco credo eh no volevo dire la vita perché penso che con la stamina non va male oh eh che livello 650 schiatti male va fa fuori i cosi qua bello però dai con st'animale qua è divertente perché te ne vai nella foresta ovviamente spero di non beccare un terizzino perché quello fa male eh il terizzino meglio evitarlo eh lascia sta l'amico mio lascia sta l'amico mio ha buttato giù pure un albero ma che siamo noi oh non ci sto a capire più niente sta fatto male caro facciamo stare il parasauro dai va si merita di vivere ok aumentiamo ragazzi quindi la salute beh vive per ora perché appena becca un altro animale questo ci schiatta abbia va se ti devo ammazzare qualcun altro d'ammazzo io a sto punto va se si deve far ammazzare qualcun altro almeno dove caspita mi trovo ragazzi vi dico che mi sono perso mi sto a fare un bel giretto qui dalla giungla tutta zona mai esplorata ed è bello raga è bello che con questo animale essendo un animale piccolo andato ovunque si potete andare in giro anche con un raptor però credo che questo è un animale più agile mi giro meglio mi muovo meglio è veloce la stamina gli dura un bel attacco bello però non c'è niente comunque so dove mi trovo so dove mi trovo raga ci siamo passati prima infatti stavo cercando questa grotta però non c'è niente ok facciamo riposare un post animale vai superiamo i 2000 di vita dai recupero un po' la stamina ok raga io penso che me ne torno indietro che tutto sommato purtroppo il tempo vola via qui c'è di nuovo quell'uovo si dai raga torna a casa che al tempo purtroppo è volato via e ci siamo fatti un bel giretto con la tigre gli abbiamo fatto fare un bel po' di di livelli vediamo poi comunque nei prossimi gameplay devo assolutamente creare una zona di atterraggio per tutti i miei volatili non l'ho dimenticato dobbiamo anche creare che dovevo fare si deve ancora creare quella famosa casa lì in quel posto bellissimo che abbiamo visto qualche tempo fa quando ho preso lo squalo quindi di cose da fare ce n'è però poco piano piano famo un po' di tutto ragazzi concludo quindi qui questo gameplay spero tanto che la tigre vi sia piaciuta come sempre mi raccomando ragazzi commentate iscrivetevi lasciate un bel mi piace ci becchiamo presto in un prossimo gameplay ragazzi alla prossima ciao 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 ciao